Vicenza Calcio, palla al centro. Il fischio d'inizio è arrivato ieri sera con la deposizione da parte del Tribunale di un invito, quindi non più di asta si tratta, a presentare offerte irrevocabili, libere per l'acquisto della società sportiva o di suoi rami d'azienda. Il curatore Nerio De Bortoli attende quindi che il mondo impreditoriale dia libero sfogo alla fantasia. Potrà essere presentata un'offerta per le sole e giovanili ad esempio, oppure unicamente per l'acquisizione dello stadio. Quel che importa, sottolinea il curatore, a microfoni spenti è la cifra che dovrà essere proposta, non inferiore al 1.470.000 se il Vicenza restasse in C, non inferiore al 1.100.000 in caso di retrocessione e il 28 maggio alle 12, termine ultimo di candidatura, i play-off saranno benché terminati. Se a presentarsi sarà solo Mr. Diesel e i requisiti soddisfatti, i giochi si chiuderanno con assegnazione decisa. Se invece le proposte fossero di più, come si augura e in qualche modo prevede il curatore, si terrà subito una gara davanti al giudice delegato con rialzo minimo di 50.000 euro, partendo come base d'asta dalla più alta offerta ricevuta. Nel caso di offerte di uguale importo, verrà data precedenza, si legge, a quella che abbia il progetto industriale teso la conservazione del Vicenza e all'iscrizione al prossimo campionato, conservando il titolo sportivo della società, che quindi non è comunque un obbligo. La partita è cominciata, mancano 12 giorni al triplice fischio.